Noi siamo lo studio di progettazione e interaction design dot 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 fondato nel 2004 a Milano. Siamo quattro soci con competenze eterogenee ma ci accomunano gli stessi interessi per l'architettura e le nuove tecnologie. C'è Giovanna che è architetto come me, Fabrizio interaction designer e Alessandro che è filosofo interaction designer. Ad oggi siamo più di 30 persone e abbiamo competenze trasversali, multidisciplinari. Nel 2014 abbiamo aperto anche un Fab Lab e ci siamo aperti alla città e qua possiamo fare ricerca, sperimentazione e sviluppo. Noi abbiamo iniziato 15 anni fa progettando in questo nuovo contesto che si chiamava interaction design ovvero interazione tra uomo e tecnologia. Abbiamo iniziato sperimentando come nuove forme di interazione e come le persone si relazionavano alla tecnologia e ci siamo evoluti nel tempo insieme alla tecnologia. Oggi siamo tutti abituati ad avere un telefonino in tasca quindi la tecnologia è passata da essere una cosa che ci crea sorpresa a una cosa a cui siamo estremamente abituati quindi una delusione se manca. È un elemento che ormai fa parte della cassetta degli attrezzi del progettista e quindi è una cosa che ogni progettista deve tenere in considerazione. Siamo partiti in Italia con una grossa fortuna perché nel 2000 fu fondato l'Interaction Design Iverain Institute che era un esperimento meraviglioso che è durato purtroppo solo cinque anni che vedeva la collaborazione tra Fondazione Olivetti e Telecom Italia con l'MIT di Boston. Da lì diciamo che l'Italia ha avuto una grossa influenza, un grosso fiorire di progettisti in questo ambito di cui noi siamo una piccola o grande ormai entità. Il nostro approccio progettuale parte con l'utente al centro quindi che sia il visitatore di un museo, il medico che vive una struttura sanitaria o il paziente dello stesso sono loro il nostro focus progettuale. Attraverso la tecnologia e il digitale molto spesso cerchiamo di rendere tutti i processi e la complessità che sta dietro alla gestione di questi contesti più semplice e più facile possibile dal punto di vista della percezione dell'utente finale. Come per il progetto che abbiamo sviluppato durante il Salone del Mobile per Design Holding noi crediamo davvero che la tecnologia sia a supporto del racconto e dello storytelling perché vediamo che anche lì abbiamo lavorato tantissimo sullo studio dell'interazione che in quel caso è veramente intuitiva, semplice però ha un risultato sorprendente perché la tecnologia è nascosta e io posso fruire le storie toccando semplicemente con il tocco attivo delle narrazioni e questo è anche la nostra particolare caratteristica lavorare con lo spazio e con la matericità innescando delle storie attraverso dei gesti che possono essere quotidiani, familiari e semplici. Nell'esperienza di visita delle centrali di Enel Green Power sono direttamente le cinque fonti di energia che si raccontano. Abbiamo creato degli avatar che rispondono direttamente alle domande che la guida fa. Il percorso di visita è un percorso molto giocoso e trasversale per un pubblico veramente allargato. I progetti che stiamo seguendo sono progetti molto interessanti, in particolare due progetti ad oggi che stiamo seguendo, uno riguarda un museo dove stiamo costruendo insieme al cliente la user experience e anche tutta la parte di digitalizzazione. L'altro riguarda un progetto in ambito sanitario che ci vedrà coinvolti per i prossimi anni. Per quanto riguarda il sogno io credo che ad oggi siamo dove vorremmo essere, credo che vada soltanto consolidato in modo tale da poter espanderlo e farlo crescere. Come DotDot e come OpenDot ci piacerebbe continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, quindi allargarci sempre di più e far diventare la nostra realtà un punto nevralgico per altre communities, un punto di convogliamento di professionalità diverse e aprire un'academy per sviluppare e far nascere nuove progettualità e nuove professionalità. Progetti per il futuro di DotDot direi che piacerebbe diventare un punto di riferimento per la progettazione sempre più di alta scala e quindi di grossi edifici per poterne un po' contenere o facilitare la complessità e renderli sempre più fruibili in maniera naturale. Sogni per il futuro direi che sono d'accordo con Laura, nel senso che sul sogno già ci siamo, sono molto meravigliato del punto in cui siamo arrivati e molto contento. Progetti per il futuro direi sicuramente progettare un'intelligenza artificiale che faccia l'intervista al posto nostro potrebbe essere un buon progetto.